BOOM! Ma guarda che abbiamo! Carissimo Justin Pezzo! Quintella Isina! Che piacere! Ma che onore! Appena vengo di nonna Assessore oppure Presidente della Coppa! Adriana! No, fa qualcosa! C'è pure una sorpresina! Amori! Venite! Fate gli origami! E pensare che gli stavo allora a dar voto! Che coglione! E non è tutto! No! Grazie a tutti.